fratelli e sorelle amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi grazie a dio per questo nuovo giorno che gli ci concede oggi 11 ottobre e leggiamo insieme nel libro dell'ecclesiaste al capitolo 5 il verso 4 e verso 5 dove è scritto quando hai fatto un voto a dio non indugiare ad adempierlo perché egli non si compiace degli stolti adempi il voto che hai fatto meglio è per te non far voti che farne e poi ad e non adempierli delle volte può succedere che siamo spinti un po dall'entusiasmo da qualche emozione superficiale o dall'eccessiva voglia di fare e di conseguenza promettiamo a dio di servirlo più fedelmente di dare di più per l'opera sua di utilizzare meglio il nostro tempo però capita in più di un'occasione che dimentichiamo le nostre promesse e a volte non siamo molto saggi nel fare queste promesse perché delle volte promettiamo cose che non possiamo tra l'altro neanche mantenere e allora ricordiamoci di quello che disse il nostro amato salvatore il quale dichiarò chi è tra voi colui che volendo edificare una torre non si metta prima a sedere calcoli la spesa per vedere se ha la possibilità di finirla cioè prima di fare un voto prima di promettere qualcosa a dio prima di impegnarti col signore ragiona rifletti vedi se è possibile adempiere quello che stai promettendo in cuor tuo perché poi non adempierlo è da stolti almeno questo abbiamo letto e cioè da persone poco sagge poco intelligenti mi riferisco all'aspetto spirituale e da persone quindi di cui non si può fidare perché chi di noi si fiderebbe di qualcuno che promette qualcosa e poi non la mantiene non dobbiamo essere quindi precipitosi perché chi è precipitoso rischia di sbagliare strada almeno così insegna la parola del signore dio non si compiace di tale persone dio infatti non chiede che noi facciamo più di quello che possiamo fare dio a dire il vero non chiede neanche che noi facciamo delle promesse però si aspetta che quando una promessa la facciamo poi la manteniamo e infatti dice meglio non fare promesse non fare voti che poi farne non adempierle è meglio perché sicuramente siamo più credibili sia agli occhi degli uomini sia agli occhi del signore stesso e questo è qualcosa che ci deve far riflettere perché viviamo in un tempo in cui tante persone amano proclamare e ostentare il proprio impegno e per cercare di attirare l'ammirazione dicono di fare di voler fare eccetera eccetera però poi spesso deludono dio sia lodato che dio invece non è un uomo e dio sia lodato perché quando egli fa una promessa egli la mantiene perché egli non è un uomo che possa mentire e per questo se è vero che delle volte noi possiamo deludere dio è vero anche che dio non delude mai noi e che di tutte le buone promesse che egli fa nella sua parola neanche una ne è caduta a terra perché egli è qualcuno che non si pente di ciò che si promette ma che quando dice una cosa la fa e che quando parla mantiene la sua parola e questo quello che troviamo scritto parafrasando i numeri a capitolo 23 al verso 19 e allora fratelli e sorelle confidiamo con piena certezza nel signore e soprattutto smettiamola se ci capita di farlo di affidarci alle mani degli uomini di credere delle volte più agli uomini che è quello che dice la parola di dio se abbiamo fatto esperienze credo che le abbiamo fatte abbiamo scoperto che gli uomini possono in più di una volta non mantenere quello che ci promettono o perché non vogliono perché non possono ma dio quando promette qualcosa lui vuole e lui può perché in cristo ogni promessa di dio al suo sì e al suo amen allora hai del bisogno nella tua vita invoca il nome del signore invocalo ed egli saprà come intervenire ti senti perduto senti che l'anima tua è lontana da dio realizzi che il peccato sta macchiando la tua vita invoca il nome del signore e sarai salvato salvata pentiti ravvediti il sangue di gesù cristo ti laverà e tu purificherà da ogni peccato non senti forza spirituale per cui subisci sempre delle sconfitte e non riesci neanche a leggere la sua parola e a pregare invoca il signore invoca la pietezza dello spirito santo affinché tu possa ricevere nuovo vigore tu possa proclamare il nome di dio con audacia con franchezza e con fermezza ti senti in un momento di grande difficoltà per cui il tuo cuore senza speranza e nell'anima tua non ci sono certezze per il futuro invoca il signore ed egli saprà come illuminare il tuo cammino per mezzo della sua parola perché la parola di dio è una lampada al nostro piede è una luce sul nostro sentiero sì gli uomini delle volte fanno promesse non le mantengono ma dio le promesse che fa le mantiene e noi possiamo confidare in loro allora in questa mattina vogliamo tenere fermi questi due principi se abbiamo promesso qualcosa al signore non inugiamo ad adempierlo perché come quello che ricevette i talenti dobbiamo subito metterci a lavoro per poter mantenere le promesse fatte ma ricordiamoci che se anche noi delle volte possiamo essere infedeli o gli uomini ci hanno potuto deludere le promesse di dio sono di dio sono stabili e eterne e ancora questa mattina sono lì per te perciò confida nel signore credi in lui cerca lui e certamente la tua vita sarà una vita consolata benedetta e nell'eternità tu guardrai col signore nella gerusalemme celeste che dio ci accompagna ancora oggi e che la sua presenza ci benedica